La strada statale 690 verso il raddoppio. Oggi il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha presentato lo studio di fattibilità tecnico-economica realizzato dall'ANAS per il potenziamento dell'infrastruttura che collega Avezzano a Sora nel Lazio. I tempi di realizzazione sono lunghi, ha detto Marsilio, ma è un'opera strategica anche in relazione al corridoio Tirreno-Adriatico. Io credo che la paura oggi sia percorrere questa strada nelle condizioni attuali, è una delle strade più pericolose d'Italia. Ho sollecitato l'ANAS ai suoi vertici nazionali su questo tema chiedendogli attenzione e chiedendogli di finanziare questo lavoro nel prossimo contratto di programma. ANAS Abruzzo è responsabile del compartimento Abruzzo-Muris e l'ingegner Marasco. Si è messo subito all'opera predisponendo una prima bozza di progettazione. Credo che sia un grande passo in avanti rispetto a quando si facevano solo ghiacchiere e oggi lo vediamo con i sindaci. Ci saranno ovviamente obiezioni e osservazioni. Siamo qui proprio per questo, per permettere al territorio di condividere il progetto e la condivisione del progetto con il territorio lo rende più forte e più credibile nei confronti di ANAS e del Ministero. Il progetto prevede una strada doppia carreggiata con quattro corsie lunga 33 chilometri, nuovi ponti e viadotti, sette gallerie, piazzole di sosta e la tecnologia Smart Road. Il costo stimato è di 960 milioni di euro.